Avrebbe compiuto 62 anni in queste ore Massimo Troisi. Per l'occasione la sua San Giorgio a Cremano ha dedicato all'artista andato via troppo presto uno spazio, una casa. La casa di Massimo Troisi è uno spazio in Villa Bruno dove Massimo è ricordato attraverso oggetti e foto, ricordi di una carriera brillante come la bicicletta del Postino o scatti intimi come quelli in famiglia, il tutto sulle note dell'amico anch'esso sparito da poco, Pino Daniele. Un open space che però si prefigge non solo di essere museo ma anche di diventare cantiere e laboratorio di idee nel nome di Massimo. A concedere al fratello Luigi, promotore dell'iniziativa e gli spazi, è stato il sindaco Mimmo Giorgiano. Ascoltiamolo. Io credo che sia una bella giornata fortemente voluta da questa associazione presieduta dal fratello di Massimo, condivisa dall'amministrazione che ha dato a disposizione dell'associazione stessa uno dei locali delle ville più belle di San Giorgio, il Palazzo della Cultura che ben si adatta naturalmente al ricordo di questo grande artista. Abbiamo per anni fatto un festival, nelle ultime due edizioni non lo abbiamo riproposto. Ripartiamo come amministrazione che ha visto con grande favore realizzarsi di questo spazio. Ripartiamo da questo piccolo spazio anche noi.